Secondo il modello interazionale o transazionale, sia le caratteristiche del bambino, sia l'ambiente, concorrono nel determinare il corso dello sviluppo del bambino, il suo adattamento e anche il disadattamento. Quindi in questo modello il bambino ha un comportamento attivo nei confronti dell'ambiente e quest'ultimo a sua volta agisce influenzando ovviamente il funzionamento infantile. Nelle teorie interattive un aspetto fondamentale è quello che riguarda la trasformazione. La trasformazione può essere considerata secondo due modalità differenti. Innanzitutto tratti e ambienti interagiscono tra loro e producono nuovi comportamenti. Ad esempio, se l'attaccamento insicuro, quindi un tratto, interagisce con un ambiente che è positivo, danno luogo a un esito positivo. Quindi abbiamo attaccamento insicuro, diciamo, per un ambiente positivo che ha un esito positivo. Quindi in questo caso l'attaccamento insicuro permane, però l'ambiente svolge una funzione compensativa. Tuttavia, nel caso in cui l'ambiente non svolga questa funzione positiva, compensativa, l'attaccamento insicuro può anche prendere il sopravvento e creare quindi una regressione. La seconda modalità è quella in cui i tratti e l'ambiente interagiscono e producono un insieme di comportamenti che si trasformano in un attaccamento sicuro, il quale ovviamente conduce a un risultato positivo. Quindi qui, ad esempio, un bambino con un attaccamento insicuro interagisce con un ambiente positivo e sviluppa un attaccamento sicuro. In questo caso l'organizzazione dell'attaccamento ne viene modificata stabilmente. Quindi abbiamo un attaccamento insicuro per un ambiente sicuro che formano un attaccamento sicuro e quindi poi un esito positivo. Quindi nel primo caso l'attaccamento insicuro rimane, però comunque sia un esito positivo alla fine perché l'ambiente è stato positivo. Nel secondo caso c'è un attaccamento insicuro che interagisce sempre con un ambiente positivo, ma l'ambiente positivo riesce addirittura a far sì che l'attaccamento da insicuro diventi assicuro e questo ovviamente poi ha lo stesso esito positivo. Quindi si può parlare di modello trasformazionale nel caso di un pattern interazionale circolare, per cui il bambino influisce sull'ambiente e a sua volta l'ambiente influisce sul bambino. Fogel nel 1993 studia ad esempio la comunicazione tra madre e lattante. La comunicazione si caratterizza da un continuo e reciproco adattamento all'altro, non solo da parte della madre ma anche dell'attante. Quindi c'è una coregolazione, una condivisione delle espressioni emozionali e dei comportamenti. Comportamenti che si ripetono e si stabilizzano proprio come dei pattern di comunicazione diadica tra madre e bambino. Quindi il processo di coregolazione crea proprio dei pattern di azione condivisa. Pattern che tendono a diventare stabili, a divenire stabili e quindi acquisiscono un significato, un significato condiviso sia dalla madre che dal bambino. Questi pattern di azione diventano proprio i frame dell'esperienza intersoggettiva e sono definiti dalla qualità dell'esperienza soggettiva. Quello che osserva Fogel è che la qualità dell'esperienza soggettiva è in funzione della flessibilità di questi frame. Quindi se i frame sono flessibili, i due partner possono adattarsi a situazioni diverse e quindi possono affrontare i cambiamenti che caratterizzano le varie fasi dello sviluppo. Al contrario, nel caso in cui i frame sono molto rigidi, vi è una difficoltà di crescita e di adattamento alle nuove situazioni. Questi frame poi nel corso dello sviluppo tendono a variare, tendono a modificarsi e a diventare più complessi per affrontare ovviamente le nuove sfide evolutive della vita. Una teoria che sia in grado di integrare la comprensione dello sviluppo e della patologia deve essere in grado di spiegare in che modo l'individuo e il contesto interagiscono per dar luogo a partner di funzionamento adattivo oppure disadattivo. Il comportamento del bambino, quindi, è importante ricordare che è allo stesso tempo il prodotto delle transazioni tra il fenotipo e quindi il bambino, l'environ type, quindi l'esperienza esterna e il genotipo, quindi l'organizzazione biologica. Possiamo dire che in passato la ricerca evolutiva si è concentrata o su, diciamo, sulle capacità biologiche del bambino nel raggiungere le competenze oppure sul ruolo dell'esperienza. Però le ha considerate in modo appunto indipendente. Noi oggi sappiamo che invece sin dalla nascita le interazioni col sistema biologico sono fondamentali, sono importantissime e sono in primo piano, non solo alla nascita ovviamente, ma anche negli anni successivi e sappiamo, ad esempio, che queste interazioni sono importantissime durante l'adolescenza. Quindi il periodo che va dalla nascita all'età adulta è dominato dalle interazioni col sistema sociale e il risultato di questi scambi regolatori con l'ambiente esterno è l'ampliamento dell'abilità individuale di autoregolazione biologica e lo sviluppo dell'autoregolazione comportamentale. Grazie.